Oggi si respira un'atmosfera di profonda preoccupazione e commozione in relazione a Romina Carrisi, la talentuosa cantante. Nei momenti che precedono un importante intervento chirurgico di sua madre, la rinomata artista Romina Power. Romina Carrisi è stata vista visibilmente commossa e in lacrime alla notizia dell'imminente intervento di sua madre. La loro stretta connessione è evidente in questo momento difficile, e Carrisi è decisa a sostenere la madre in ogni modo possibile, dimostrando una forza e una resilienza straordinarie. Fonti affidabili vicine alla famiglia Carrisi Power hanno comunicato che Romina Power necessita di questo intervento per gravi ragioni di salute, e la situazione è estremamente seria. Carrisi, visibilmente sconvolta, è al fianco della madre con amore e dedizione, cercando di mantenere alto il morale di Romina Power durante questa sfida. I fan affezionati di Romina Power e Romina, Carrisi stanno inviando un costante flusso di messaggi pieni di affetto e solidarietà attraverso i social media, dimostrando il loro sostegno incondizionato. In questo momento di difficoltà, la famiglia Carrisi Power chiede gentilmente riservatezza mentre Romina Power affronta l'intervento. Speriamo in un completo e rapido recupero, e la forza della loro unione familiare è un esempio di amore e solidarietà in un mondo spesso frenetico e imperscrutabile. Continueremo a seguire da vicino Romina Power mentre affronta questa sfida con coraggio e determinazione. Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video, per noi è importante, grazie, ci vediamo nel prossimo video.